Nuovo appuntamento con Tra le righe incontro con l'autore. Nella puntata di oggi ho il piacere di avere nei nostri studi il professor Giovanni Chifari, un amico di Padre Pio TV. Ciao Giovanni, ben trovato. Ciao Paola, grazie. Teologo biblico, docente. Vieni a presentarci il tuo ultimo libro edito dalla LDC dedicato ai gruppi di preghiera di Padre Pio, origine, spiritualità e servizio. Allora, io partirei proprio dal chiederti com'è nata l'esigenza di scrivere questo libro. Dopo tanti anni di servizio, appunto, un termine che ricorre anche nel libro presso l'opera di Padre Pio, è venuta fuori la richiesta di poter sintetizzare questo percorso a beneficio dei gruppi di preghiera, poterlo offrire al grande pubblico su scala nazionale. La richiesta è arrivata proprio dal direttore della LDC, la casa editrice di Don Bosco, Don Valerio Bocci, che mi ha chiesto un po' di alzare il livello della riflessione, perché solitamente i gruppi vengono identificati come gruppi soltanto appartenenti a una parte del popolo, così se possiamo dire, mentre invece elevare il livello dei contenuti anche teologici poteva essere utile per estendere questa riflessione a un più ampio numero di destinatari. Esatto, quando si pensa ai gruppi di preghiera di Padre Pio, qualcuno in maniera erronea può pensare ad un gruppo di persone, magari anche di una certa età, che si incontrano una volta alla settimana per recitare il rosario e che una volta all'anno vengono a San Giovanni Rotondo. Non è così, c'è qualcosa di più importante, c'è uno spessore. Mi piace moltissimo la frase di Padre Pio, vivai di fe, focolai d'amore, questa è una frase per definire i gruppi di preghiera. Facciamo un salto indietro nel tempo, partiamo proprio dall'origine dei gruppi di preghiera, facciamo un po' la storia Giovanni. Sì, il libro si occupa anche di questo attraverso un metodo ben preciso che ha consapevolezza della distinzione dei ruoli, perché se lo storico cerca di raccontare i fatti, il teologo recepisce il lavoro dello storico, ma cerca di rintracciare in questi fatti il passaggio di Dio e dunque di avere uno sguardo sapienziale a questi fatti che hanno avuto le loro vicissitudini storiche. È un po' questo il mio compito all'interno di questa prima parte del libro, quella di carattere storico, affannarsi quasi su questo paradosso, il passaggio di Dio, cosa Dio ha voluto dire attraverso il sorgere dei gruppi di preghiera, che sono strettamente legati alla persona di Padre Pio, perché Padre Pio nella sua persona ha anticipato tutti quei caratteri, quegli aspetti che poi sarebbero emersi all'interno dei suoi gruppi di preghiera. Quindi abbiamo prima l'uomo, il cristiano, il discepolo di Cristo fatto preghiera, e poi questo essere personale di Padre Pio che si estende ad una realtà che lui contribuisce a creare e poi avrà un riconoscimento ecclesiale, perché è interessante osservare che Padre Pio inizia a maturare l'idea dei gruppi all'interno della Prima Guerra Mondiale. Quando lui arriva a San Giovanni Rotondo, più o meno, le radici storiche dei gruppi possono rintracciarsi in quel periodo con la formazione che lui dava a quel piccolo gruppo di persone. Tuttavia poi ricevettero la loro forma più, tra virgolette, quasi ufficiale, con l'invito di Papa Pio XII. Quindi abbiamo due eventi molto interessanti da mettere in relazione. Voglio citare, a pagina 26, diceva il Padre Superiore del Convento di San Giovanni Rotondo, allora Padre Paolino da Casa Calenda, a me non importa di chi porta il fazzoletto e di chi porta il velo, a me importa l'anima. E poi, appunto, Padre Pio intendeva formare poche anime e bene, per essere poi esempio per altre anime. E poi citi anche Padre Marciano Morra, il metodo adottato da Padre Pio fosse semplice e tradizionale, ricco di praticità e sviluppato con esperienza, infondeva principi elementari ma fondamentali della vita cristiana, inculcati secondo le necessità di ogni singola persona. Quindi è un libro che analizza perfettamente la figura di Padre Pio alla luce di gruppi di preghiera. Cioè, non è che le due cose sono... non esistono i gruppi di preghiera slegati dalla figura di Padre Pio. Un po' questa è la mia sensazione. Credo che la tua idea sia stata proprio questa. Esattamente è questa, di mettere in relazione questi due momenti, quello del discepolato di Padre Pio e quello dell'accoglienza della sua proposta ai gruppi di preghiera. Possiamo anche analizzarlo alla luce di un'immagine che qui è di casa, in questi studi, quella di una telecamera che può zoomare determinate situazioni e ambienti e contesti religioso-culturali. Facciamo un esempio. Già Padre Pio, intorno al 1916, iniziava a suggerire una spiritualità della croce, della sofferenza. E la suggeriva a coloro che erano inseriti in un suo percorso. La viveva già intimamente con la celebrazione della messa. Lì, in questo libro, si parla della messa di Padre Pio come un percorso che doveva guidare tanti fedeli a fare esperienze di Dio. Era una sorta di iniziazione vera e propria alla fede cristiana, comprendere il significato profondo della messa di cui Padre Pio era interprete. E poi questa spiritualità della croce riceverà un nuovo sigillo con il contributo dei pontefici, con Pio XII che, nell'imminenza dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, dirà che la coppa dei dolori sta per essere versata sull'umanità, della violenza, dell'aggressività. Userà proprio queste parole rileggendo l'agonia di Gesù nell'orto del Gezzemani. Abbiamo usato l'immagine della telecamera, ci siamo spostati da 1916, 18, 20, eccetera, fino al 1942, l'intervento di Pio XII, ma già prima, nel 1939, c'era stata l'invasione di Hitler presso la Polonia. E Pio XII aveva dato una chiave di lettura, perché l'intervento di Pio XII è dell'ottobre del 1939, il primo intervento in cui parlava di questa dinamica di sofferenza che si sarebbe scatenata. Bene, Padre Pio già stava vivendo tutto questo, perché la grazia di Dio precede sempre l'irruzione di una situazione che si va ad affrontare. La grazia di Dio viene sempre prima per aiutare. E in questo senso la preghiera diventa una forma di resistenza, senza che ci sia nulla di apologetico, senza che ci sia nulla di bigotto, diciamolo pure, ma una preghiera che significa relazione con Dio, dialogo con Dio. A me non importa chi porta il fazzoletto e chi porta il velo, a me importa l'anima, proprio la concretezza. A proposito della storia dei gruppi di preghiera a cui tu dedichi il primo e il secondo capitolo, il secondo capitolo è i gruppi da 68 ad oggi, quindi il 68 è una data di demarcazione, la morte di Padre Pio. Magari qualcuno pensava che con la morte del santo di Pietrelcina, all'epoca non ancora santo, sarebbe finito tutto. Invece in quel momento, dal 68 in poi, i gruppi di preghiera si trovano a vivere una, forse in attesa anche di fusione. È così? Una nuova e inaspettata primavera dei gruppi di preghiera. Perché quando un'opera viene da Dio ed è sostenuta dallo Spirito Santo, allora procede e va avanti in modo sempre non corrispondente alle aspettative dell'uomo, che non ha, non possiede gli strumenti per poter intercettare questo modo di procedere divino. E questo sorprende, determina sempre stupore, come dei gruppi possano essere stati accolti, recepiti in un contesto ecclesiale e a poco a poco incoraggiati, anche dovendo maturare, e questo ritengo sia un passaggio molto importante che cerco di spiegare nel libro, quell'adeguamento, quel passaggio dal pre al post concilio. Perché i gruppi di preghiera sono una testimonianza molto importante nella nostra Chiesa da questo punto di vista, perché hanno mostrato come ci si può adeguare da un contesto totalmente differente sul piano ecclesiale, quello del pre concilio, a quella vivacità, effervescenza, esuberanza dello Spirito che poi si è avuta nel concilio Vaticano II e dopo, tutt'oggi, noi cerchiamo di vivere e interpretare il concilio. L'apporto di Papa Francesco va visto anche in questa prospettiva di ricezione e incarnazione del concilio Vaticano II. I più esperti dicono che ci vogliono circa 100 anni, pensi, ancora non siamo a 100 anni nel concilio. No, non ci siamo ancora. Allora Giovanni, il libro è davvero ricco di spunti, di riflessione, e quindi una puntata del nostro appuntamento con i libri non basta. Quindi ti invito a ritornare la prossima settimana, perché in questa prima parte abbiamo parlato dell'origine della storia dei gruppi di preghiera. Nella seconda poi affronteremo, come leggiamo nel sottotitolo del libro, la spiritualità e il servizio. Oggi è importante parlare anche di servizio. Quindi ti ringraziamo per essere stato con noi. Alla prossima puntata di Tra le righe intanto ricordo nuovamente ai nostri telespettatori il libro del professor Giovanni Chifari intitolato I gruppi di preghiera di Padre Pio, origine, spiritualità e servizio, edito dalla LDC. Intanto ti ringraziamo e ti aspettiamo la prossima settimana. Grazie a voi. Grazie a voi.